La grande sconosciuta italiana, noi abbiamo la ricostruzione più bella del mondo, che ha due pilastri fondamentali. Al pilastri la dignità del cittadino. Quando il cittadino subisce quella violenza, che parlava con il famarino, anche di non poter scegliere il momento in cui metterà a mondo un figlio, che decide la propria vita, eccetera. Questa è la violenza che vede la dignità della persona. La violenza che fanno questi direttori contro le donne, vede la dignità della persona. E' un'altra cosa che dice che l'autodeterminazione è l'autodeterminazione. Noi autodeterminiamo la nostra vita. Non può esistere una democrazia, qualche ente, qualche associazione, qualcuno, che può decidere la sua propria vita. Negli anni 70, il governo femminile diceva, io sono mia. Ed è così. Ogni di noi è di se stesso. Non è dello Stato, non è di nessuna religione, nessun partito. Noi siamo loro nostri. Noi abbiamo il diritto costituzionale di decidere la nostra vita. Se qualcuno vuole autodeterminarci, noi dobbiamo rifiutarci, dobbiamo combattere queste cose. Purtroppo l'Italia questa ignoranza della nostra Costituzione porta a queste cose. Spesso, quando spiego la Costituzione, parlo della grande evoluzione che avete nel 1946, quando ho fatto questa Costituzione, in cui c'è un passaggio fondamentale che può, e quasi nessuno in Italia riesce a capire, quando dice che le prerogative regge passano a ogni cittadino. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ognuno di noi è un re. E' chiaro. Non sconfate per essere contro il re. Ognuno di noi ha questo potere di essere un re. E' chiaro che poi è una legge che permetta a questa mostituzione di re di poter convivere insieme. E' chiaro. Questo è un re. Ma essere un re vuol dire avere la dignità del re, avere il potere di un re, che ognuno di noi ha. Queste, queste violenze che questo sistema Italia porta verso le persone, sono violenze anticostituzionali, sono contro la dignità, contro la delegazione, sono contro la democrazia che abbiamo tanto voluto in Italia dopo la luce della guerra. L'abbiamo conquistata questa democrazia, dobbiamo difetterla. Ora trovo la parola a Laura Fiore di Cucutella Salata.